Ciao ragazzi, in questo video studiamo l'equilibrio di un'asta libera di muoversi su un punto fisso chiamato fulcro. Lo facciamo tramite l'uso di una simulazione. Vedete, sull'asta sono presenti alcuni fori ed è riportata la distanza di ciascun foro dal fulcro. Vedete 1, 2, 3, 4 centimetri. Stessa cosa da questa parte dell'asta. Se andiamo a prendere una massa di 5 grammi e la andiamo a posizionare, vedete, qui a 10 centimetri dal fulcro a sinistra, e prendiamo una seconda massa, sempre di 5 grammi, e la andiamo a posizionare a distanza 10 centimetri sulla parte destra dell'asta, quest'asta torna in equilibrio. La cosa è abbastanza facile da capire perché, vedete, il sistema è perfettamente simmetrico. Prendiamo adesso una seconda massa, questa volta di 2 grammi, e andiamo a posizionarla a 6 centimetri dal fulcro, sulla sinistra. Vediamo di ritrovare l'equilibrio dell'asta. Prendiamo ancora una massa di 2 grammi e la andiamo per esempio a posizionare a distanza 3 dal fulcro. Osserviamo che l'asta non torna in equilibrio, nonostante il fatto che abbiamo agganciato 7 grammi a sinistra e 7 grammi a destra. Il mancato equilibrio è dovuto ovviamente alla differente distanza a cui abbiamo agganciato la massa di 2 grammi. Quindi riprendiamo la massa di 2 grammi e andiamo a posizionarla questa volta a 6 centimetri dal fulcro. In questo modo l'asta torna ad essere in equilibrio e osservate nuovamente che abbiamo un sistema perfettamente simmetrico. A distanza 10 centimetri abbiamo posizionato la massa di 5 grammi sia a destra sia a sinistra e stessa cosa a 6 centimetri di distanza dal fulcro abbiamo posizionato una massa di 2 grammi sia a destra sia a sinistra. Prendiamo adesso una seconda massa di 2 grammi e andiamo ad agganciarla a distanza 6 centimetri a sinistra e cerchiamo di riequilibrare il sistema questa volta in maniera non simmetrica. In particolare andiamo a prendere una massa di 5 grammi e la posizioniamo a 2 centimetri dal fulcro sulla destra. Osserviamo che l'asta non è in equilibrio ed è sbilanciata verso sinistra. Osservate inoltre che a sinistra abbiamo agganciato 9 grammi mentre a destra abbiamo agganciato 12 grammi. Quindi l'asta è sbilanciata dalla parte in cui abbiamo agganciato una massa minore. Questo significa che non può essere solo la quantità di massa agganciata a decidere l'equilibrio dell'asta ma è fondamentale andare a vedere in quale posizione sono state agganciate le varie masse e a quale distanza dal fulcro. Per riequilibrare questo sistema prendiamo infine un'ultima massa di un grammo e l'andiamo ad agganciare a distanza 2 centimetri dal fulcro. Vedete adesso che l'asta è tornata in equilibrio. Cerchiamo di esaminare meglio le tre situazioni che abbiamo visto per capire qual è la legge che sta dietro l'equilibrio di un'asta. Partiamo dalla prima situazione che abbiamo studiato e quindi una massa di 5 grammi a distanza 10 centimetri dal centro sul lato a sinistra e una massa di 5 grammi sempre a distanza 10 centimetri a destra. Moltiplichiamo la distanza per la massa. Abbiamo a sinistra 10 centimetri per 5 grammi quindi 50 grammi per centimetro. Identicamente a destra abbiamo 10 centimetri per 5 grammi e quindi 50 grammi per centimetri. In questo sistema che sappiamo essere perfettamente simmetrico ritroviamo che il prodotto distanza per massa è uguale sia a destra che a sinistra e l'asta è in equilibrio. Andiamo a confrontare il prodotto distanza per massa anche nella seconda situazione che abbiamo studiato. A sinistra abbiamo 10 centimetri per 5 grammi più 6 centimetri per 2 grammi. Questo conto ci dà un totale di 62 grammi per centimetri. In maniera simmetrica a destra abbiamo ancora 10 centimetri per 5 grammi più 6 centimetri per 2 grammi. Nuovamente 62 grammi per centimetri. Anche quest'asta è in equilibrio e osserviamo che la somma delle distanze moltiplicate per le masse è uguale. Consideriamo infine la terza situazione che non era simmetrica. A sinistra ritroviamo 10 centimetri per 5 grammi più 6 centimetri per 4 grammi. In totale 74 grammi per centimetro. A destra abbiamo 10 centimetri per 5 grammi più 6 centimetri per 2 grammi e infine 2 centimetri per 6 grammi. Facendo il conto otteniamo nuovamente 74 grammi per centimetri. Come probabilmente avete intuito troviamo equilibrio in un'asta quando a destra e a sinistra sono uguali le somme dei prodotti distanza per massa. Cerchiamo di formalizzare meglio questa idea e diciamo che un'asta è in equilibrio quando vale questa relazione che cerchiamo ora di capire meglio. Con B1, Bn, Bn più 1, Bk indichiamo la lunghezza del braccio. Il braccio è il vettore che va dal fulcro fino al punto di applicazione della corrispondente massa. Quindi con B1 si intende la distanza dal fulcro fino al punto in cui abbiamo agganciato la prima massa. Con B2 la distanza dal fulcro fino al punto in cui abbiamo agganciato la seconda massa. Così via per tutti gli n oggetti che abbiamo agganciato a sinistra dell'asta. Quindi vedete da questa parte ritroviamo B1 per M1 più B2 per M2 fino a Bn per Mn. In maniera del tutto analoga ritroviamo la stessa notazione per il calcolo braccio per massa degli oggetti agganciati a destra dell'asta. Abbiamo usato la notazione Bn più 1 perché consideriamo agganciati a sinistra i primi n oggetti e i successivi a destra. Quindi con Bn più 1 per Mn più 1 consideriamo il prodotto braccio per massa del primo oggetto che abbiamo a destra. Svolgiamo poi la somma fino all'ultimo, braccio per massa. Riprendiamo quest'uguaglianza e andiamo a moltiplicare tutto per G, cioè 9,81 metri al secondo quadro, l'accelerazione di gravità. Ritroviamo questa relazione. La somma dei prodotti braccio per massa per accelerazione di gravità a sinistra uguale alla somma dei prodotti braccio per massa per accelerazione di gravità a destra. Ma ricordando che massa per accelerazione di gravità ci dà il peso e quindi in generale una forza, ritroviamo una relazione del tipo la somma dei prodotti braccio per forza che ritroviamo a sinistra uguale alla somma dei prodotti braccio per forza che ritroviamo a destra. Possiamo quindi dire che un'asta è in equilibrio quando la somma dei momenti di forza, cioè il prodotto braccio per forza a sinistra, è bilanciata dalla somma dei momenti di forza che ritroviamo a destra dell'asta. Più precisamente, se andiamo a definire un momento di forza il prodotto vettoriale tra i vettori braccio e forza, usando, vedete, questa notazione, possiamo dire che un'asta è in equilibrio quando è nulla la somma vettoriale dei momenti di forza che agiscono su di essa. Vedremo meglio il concetto di momento di forza in uno dei prossimi video. Spero intanto che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a intuire il funzionamento dell'equilibrio di un'asta. Continuate a seguire i video di questo canale, mettete mi piace e lasciate un commento. A presto!